Le antenne telefoniche non pagano lici, al contrario dei cittadini che magari a causa delle cartelle pazze rischiano di pagarla due volte. E' la singolare segnalazione contenuta nell'interrogazione degli ex consiglieri comunali Enzo Albano e Antonio Monetti che chiedono al commissario prefettizio di porre un argine alla vicenda. Dalla ricerca dei due ex amministratori emerge che le società telefoniche ancora oggi non sono state sollecitate dal comune di Brindisi a provvedere all'iscrizione in un catastro dato che da tempo le antenne telefoniche sono state ritenute vere e proprie unità immobiliari da accadastarsi nella categoria D e come tali soggetti al pagamento dell'ICI. Lo stabilisce la sentenza numero 400 del 3 novembre 2010 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia con la quale erano state riconosciute le ragioni di un piccolo comune di quella provincia che aveva provveduto a notificare l'avviso di accertamento ICI contestando ad una società telefonica il mancato versamento del tributo relativo ad un'antenna di telefonia mobile installata nel proprio territorio comunale. Una sentenza, dicono Albano e Monetti, che sembra non aver prodotto alcuna conseguenza nel nostro comune dove l'inerzia di questi anni vorrebbe aver fatto perdere somme rilevanti all'ente e con conseguente danno per le casse comunali e per la nostra popolazione.